Eccoci qua, questo sax così inquietante. Allora, secondo blocco, ovviamente non abbiamo risolto la questione, si potrebbe parlare per ore, abbiamo tagliato con l'accetta un po' la questione, ma era giusto per capire quanto la questione stia a cuore e quanto ci si muove per trovare una qualche soluzione. Per vivacizzare. Tutti quanti comunque sono, l'aveva accennato anche Crescitello, la questione dei giovani e dell'occupazione del fatto che abbandonino Gorizia che appunto sta perdendo sistematicamente abitanti. Allora, cominciamo da Maraz, questa desertificazione commerciale unita alla questione delle fabbriche chiuse, è uno scenario apocalittico? È così che si sta vivendo la questione a Gorizia? È uno scenario quasi apocalittico in effetti. La città ha vissuto per lungo tempo economicamente appoggiata su quel confine che non c'è più. Viveva di commercio, visto che oltre confine nell'ex Jugoslavia non c'erano i beni di consumo che c'erano a Gorizia e quindi viveva di questo il commercio. Viveva sempre sul confine con le tante caserme che c'erano e quindi le pizzerie, i bar lavoravano in continuazione. E c'era il fondo Gorizia che finanziava le industrie che venivano sul territorio in modo tale, per cui avevamo un polo tessile, avevamo il polo chimico, avevamo un sacco di cose. Finito il confine, mentre dall'altra parte si sono rimboccate le mani che hanno progettato il futuro, Gorizia si è addormentata. 20 anni di amministrazioni di centro-destra e di centro-sinistra per non concludere un bel nulla. Il GEC, di cui si parla tanto, è partito l'altro ieri, mentre si partiva da anni. Il GEC è il gruppo europeo di cooperazione territoriale, giusto perché non pensino che sia una marca di sapere. Il nuovo aeronautico, sì speriamo parta di questi progetti a lunga scadenza, che durano anni, che costano un sacco di soldi, ma la città ha un bisogno di essere rivitalizzata all'Ista. Molto bene. Portelli ha analizzato la cosa con Acume, ha parlato di un deficit di iniziativa imprenditoriale e di un'economia assistita che ha fatto il suo tempo. È un'analisi che potrebbe prevedere sviluppi interessanti? È un'analisi anche questa che ci viene dal percorso che abbiamo fatto e comunque è abbastanza consolidata come punto di partenza da tutti quelli che se ne intendono di economia. Noi abbiamo vissuto, come diceva anche Marazzo, un periodo in cui gli imprenditori venivano perché avevano possibilità di ricevere fondi praticamente a sbaffo. Dopodiché finiti i fondi se ne chiudevano baracche e tornavano a casa in Lombardia o in altre zone. Quel periodo ha purtroppo impoverito la qualità imprenditoriale degli imprenditori goriziani. Gorizia nel secolo ancora prima, precedente, era una città in cui fiorivano gli imprenditori, ma non solo legati al commercio, ma anche all'industria privata. Come ripartire? Noi abbiamo fatto un'analisi concreta degli obiettivi che ci possiamo dare in cinque anni di governo. Sono tutti raccolti nel nostro programma che è stato fatto in mesi e mesi di confronti con le categorie economiche e con i cittadini. Poi ci ritornerò, se avrò il tempo. Sì, speriamo di riuscire ad avere una replica. Le start-up per i giovani, ad esempio, noi potremmo farle anche in comune, le ho già fatte in provincia, si possono fare, si possono finanziare e non si capisce perché il comune non le ha mai fatte, però noi le faremo se vinceremo. Ho capito. Bertin, cosa mi dice dell'economia? Agganciandosi magari al comune, alla questione dei lavori socialmente utili, poi tra l'altro c'era, ho letto che... Quello è welfare, non è lavoro. Non è lavoro. Cioè le start-up per i giovani non sono assistenza e sostegno al reddito, sostegno al reddito è un'altra cosa, no? No, no, certamente. I lavori socialmente utili sono welfare, non sono lavoro ed economia. Bene. Precisamente. Tecnicamente. Tecnicamente, se arriva a un soldo però può fare... È diverso perché non rende autosufficiente la persona nel tempo. Però possiamo spendere qualche lira o no? Quelli comunque sono fondi regionali che ci sono, non è lavoro-economia il tempo. Benissimo, sono d'accordo con lei. Bertin? Diciamo che a Gorizia abbiamo avuto la possibilità e la fortuna della zona franca, no? Confinaria e del confine che faceva sì di avere una forma, una sorta di cortina di ferro tra Gorizia e Nova Gorica, no? E comunque proprio per questo motivo qua avevamo questa fortuna degli sloveni di oltre confine che venivano a fare acquisti, diciamo, nelle zone storiche, diciamo, del centro, diciamo, che ha a che fare con Via Rastello e Via Mazzini, no? Visto che i beni sicuramente, diciamo, nell'ambito ad esempio dell'abbigliamento o di altro costavano di più, relativamente di più appunto quando erano sotto regime comunista, no? E la fortuna da parte nostra appunto è la zona franca che poi è venuta meno a un certo punto, no? E' chiaro che patiamo anche che siamo troppo confinanti rispetto al... troppo ad est, no? Per cui costa anche il far arrivare le merci, diciamo, fin da noi e manca quel vantaggio di una zona fiscale di vantaggio che è stata portata via per colpo di una classe politica anche a livello regionale che si è dimenticata di rinnovarla, ecco. No, 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 ho capito molto bene, ma insomma va bene lo stesso. Cecocci, spieghi allora, LSU non va bene, perché welfare, perché lei è stata assessora al welfare, bravissima. Sono stata assessora al lavoro della provincia. Siccome Bertin si era dilungato sulla questione dei lavori socialmente utili e cose del genere, mi pareva di offrirgli la possibilità di ragionare. Quello fa parte del welfare, come sta dicendo la città. Prego, prego. Per l'amor di Dio, l'abbiamo chiamata per questo. Sono stata assessora al welfare e al lavoro di questa provincia conosco abbastanza bene. E non vanno confusi assolutamente, perché lei ha fatto una domanda pertinente su economia e lavoro, quindi che cosa fare per economia e lavoro. Poi se parliamo di welfare parleremo di lavori socialmente utili. Secondo me nel tempo, e l'ho detto più volte, a Gorizia non è che sono mancati i soldi e le opportunità. Gorizia le ha avute, le ha spese male, proprio perché forse è mancato a monte quel ragionamento di cui parlava Federico. Cioè porsi un obiettivo a medio e a lungo termine e cercare di delineare, una volta caduto il confine e venuto a meno un certo tipo di economia appunto assistenziale, una prospettiva di futuro per la città. Che inevitabilmente non poteva guardare verso Monfalcone, ma che doveva guardare verso Ljubljana. Questo non è mai stato fatto. Una delle operazioni, ad esempio, da un punto di vista economico più strabiche, che sono state fatte a Gorizia, è la SDAG. Cioè gli snodi, la logistica, sono fondamentali quando si vogliono portare insediamenti produttivi sul territorio. Non c'è mai stata pertinenza tra la vocazione del territorio, che non è industriale, lo ribadisco, e lo sviluppo economico sostenuto delle amministrazioni. Ora che fare? Sicuramente, riprendo di nuovo quello che ha detto il collega Portelli, decidere qual è il modello di sviluppo che non può essere che piccolo. Piccoli insediamenti di innovazione tecnologica, culturale. La cultura può essere un'azienda e Gorizia ha la materia prima. Eno gastronomico, turistico, abbiamo le materie prime. È inutile che andiamo a prendere o pensare di avere, che ne so, il porto a Gorizia. Faccio un paradosso per spiegare quello che voglio dire. Quindi, come i soldi del fondo Gorizia vanno usati in un certo modo. Bisogna utilizzarli quando c'è un business plan e la possibilità di portare avanti in maniera sostenibile un'azienda nel tempo. E non dati a così, perché ci innamoriamo dell'idea di turno. E quei soldi li abbiamo spesi male. Quindi, idee chiare, oculatezza negli investimenti e perseguire gli obiettivi nel tempo. Benissimo. Collini, questa idea del confine che è caduto, eccetera, eccetera, l'ha detto, il stigma, insomma... Bisognava prepararsi prima, bisognava prepararsi. Però adesso il confine può essere ancora un'opportunità, se colta nella dimensione giusta. Per esempio, l'impegno sul jet, quello che dicevamo prima, è un impegno che sta per essere avviato e può portare i primi risultati. Ma se pensiamo, accennava adesso la Cecot, all'area della SDAG, dell'autoporto, ecco che... Se pensiamo alle necessità, per esempio, della Cina espressa l'altro giorno, proprio quando c'è stato Gentiloni a Pechino, hanno detto, hanno offerto due opportunità, come scali, marittimi, nell'alto adriatico ai cinesi, nell'alto, nel Mediterraneo, insomma. Trieste da una parte e Genova dall'altra. Trieste può essere il punto più alto dell'Europa per l'arrivo delle merci, però ha bisogno di un retroporto. E allora, se noi riusciamo a creare una piattaforma logistica all'interno di quella che è l'area attuale dell'autoporto, o che creiamo già un'opportunità, se a questo aggiungiamo poi il ragionamento che si è stato fatto anche poco tempo fa sull'istituzione, e là ci dividiamo tra Zesse e Zese, zona economica speciale, che viene attivata, allora lo dirò dopo. Viene attivata dopo. Invece oggi c'è stato il primo passo, ne ho letto, per la rinascita del manifatturiero a Gorizia, Ziberna, Cosa è successo oggi? Sì, non è parte da oggi, naturalmente, ma anche perché per noi, l'ho sempre detto, il problema dei problemi è senza dubbio quello del lavoro. E per noi il sedime aeroportuale dell'aeroporto di Via Trieste, l'aeroporto Duca d'Aosta, che peraltro è grande, quasi 160 ettari, è esteso quasi 160 ettari, perciò quattro volte tanto ha un aeroporto con ben più aerei di quelli di Gorizia, e perciò ha la possibilità, ha una grande capienza. Noi oggi abbiamo inaugurato, tra virgolette, il primo insediamento industriale. La BAPI-Pistre, che è una fabbrica che produrrà degli aerei, comunque degli aerei velivoli ultra leggeri, non so se sono quelli di una commessa americana che consentirebbe in modo rivoluzionario di consegnare le merci da un grattacielo all'altro o un altro. Ma insieme a questo abbiamo già, c'è già un'altra azienda che ha acquistato un altro capannone, e ci sono perlomeno tre grandi aziende che hanno manifestato il loro interesse di insediarsi in Gorizia. Ecco perché per noi occupazione ci sarà, naturalmente altre occupazioni, ci sono stati citati il GEC, è già stato citato anche l'Azese, questa zona, questa sorta di zona franca, che sarà capace, se realizzata, di creare davvero tanti posti di lavoro. Benissimo, Gaggioli, lei cosa pensa di questa iniziativa? Mi pare che l'incubazione della Pipistrella è stata piuttosto faticosa, insomma. Sì, piuttosto faticosa, piuttosto lunga, cade a fagioli in questo momento l'inaugurazione della Pipistre, va bene. Anche per me non è cazzo. Siamo contenti, speriamo che poi parte effettivamente, perché io non ho visto arrivare i macchinari, queste cose qua. Ho visto un bel pannone. Guardavo che c'è anche un'altra azienda, la TAF3 mi pare, slovena, che ha già acquistato un capannone dietro. Inaugurare i muri non è inaugurare un'azienda, ecco, diciamoci la verità. Detto questo, del GEC si parla adesso o si parla dopo? Quando vuole, guardi, perché se uno la interrompe poi si ribalta tutta la scaletta. No, anche perché sul tema lavoro è importante anche parlare di quello che ha fatto il Comune in precedenza, perché, ad esempio, una cosa che ha fatto il Comune col sindaco Romoli in carico è quello di esternalizzare tutti i servizi. E quindi nel giro di 4-5 anni siamo passati da 100 unità in meno al Comune di... Tanta mi pareva l'ultima dichiarazione. Però, insomma, se andiamo un po' più indietro, se arriviamo quasi a 100 persone in meno, con grosse difficoltà per lavorare. Si possono, anche perché poi si chiude un bilancio con 15 milioni di attivi, si pubblicizza anche questo fatto e non credo sia il massimo della cosa. Quindi se ci sono i soldi, magari anche cominciamo a metterli solo e poi parlerò del GEC anche nel... Poi forse parlerò del GEC. Non lo so, spero, però. Crescitello? Cosa ci dice Crescitello? Io condivido cose che già sono state dette, quindi sia l'analisi del perché siamo in questa situazione, ovvero l'assistenzialismo portato dalla zona franca sostanzialmente, o comunque la visione per cui si aspetta il contributo e via avanti, e una scarsa imprenditorialità anche goriziana. Allora, e poi l'altra cosa che mi preme è quella che ho appena detto Gaggioli, e cioè i dipendenti in meno. Allora, per noi, centrale è prima di tutto riassumere in Comune di Gorizia. E lì già abbiamo un po' di posti in più, insomma. Ma poi il fatto che siamo in nove qua significa che consideriamo strategico il Comune di Gorizia. Noi lo consideriamo strategico, sicuramente lo dico chiaro. Penso che il Comune di Gorizia possa diventare, se si assume nei giusti settori, se si fa degli investimenti su personale giovane, capace, eccetera, si può coordinare un lavoro di preparazione di una nuova classe imprenditoriale a Gorizia. Su questo punteremo. Benissimo. Del commercio parliamo dopo, oppure? Adesso vediamo, picco, se va lungo. No, brevissimo, brevissimo. Brevissimo. Allora, la storia l'abbiamo sentita, ma cosa si può fare da domani? Allora, si è parlato di questa vocazione internazionale di Gorizia, eccetera. Bene, allora, il Comune di Gorizia sa quante risorse destina, risorse umane destina per tutto ciò che riguarda progetti europei? Provi a dire. No, tre. Eh, un terzo di tre. Un terzo di tre. Un terzo di tre. Un terzo di tre. Sono andato vicino. Un terzo di tre e questo è l'investimento che fa il Comune su tutto ciò che riguarda progettualità europea e via dicendo. Si parlava del JECT, questi dieci fantomatici milioni che girano, sono ormai sei, sette anni che girano, è un giro di dieci milioni di… Di baionette. Si, non so io, non so. Per fortuna restano sempre dieci perché quando cominceranno a essere nove o otto ci chiederemo anche dove sono andati a finire. Ho capito. Un'altra cosa invece, facciamo un esempio. Breve però. Sì, brevissimo. Allora, investiamo in turismo, no? Investiamo in turismo. Bene, abbiamo la home page del sito di Gorizia che è in italiano. Abbiamo l'app Let's Go che è in italiano. Abbiamo, per esempio, si potrebbe investire in turismo lento. Lei entra da Nova Gorizia in Italia a Gorizia e dopo cento metri si interrompe la pista ciclabile, no? Abbiamo la possibilità, siamo in un posto bellissimo che è, diciamo così, al centro di piste ciclabili che vengono da ovunque e non siamo in grado nemmeno di produrre un servizio di renta bike. Le annuncio che si è giocato la replica, quindi… No, questo è dei siti web del turismo internazionale, ma è notorio ormai. No, ma la pagina turistica è in tedesco, in inglese… No, voglio dire, sono tutti in italiana… No, se uno non sa che è turismo in italiano, se dice turismo non arriverà mai dentro. Allora, facciamo così. Con giapponese c'è il comune, c'è il turismo. Ancora un passaggio sul getto, comunque sulla ZES, va bene, sulle zone. Che prima di andare a contrattare una cosa e cercare un'intesa con la Slovenia, bisogna essere attrezzati. Perché se tu vai a trattare con la Slovenia in questo momento e dici io sono svantaggiato fiscalmente, mettiamoci d'accordo, difficilmente tu trovi sponde che ti possono garantire un'intesa. E allora è meglio che prima ci troviamo un accordo al nostro interno con il sostegno del governo nazionale che ci riconosca questa funzione e poi si può andare a trattare, a darmi pari con la Slovenia… Questo è riferito alla visita d'Italia. Esatto, era riferito alla visita d'Italia. Ma non tanto, l'impostazione complessiva. C'è anche Gaggioli mi pareva volesse dire qualcosa. Sul GEC? Sì, velocissimo. Il problema del GEC credo che nessuno lo prenda in considerazione. I 10 milioni, non è vero come dice Picco, i 10 milioni sono stati stanziati, sono 300 mila euro all'anno e verranno… no, comunque i 10 milioni sono stati stanziati per fare le rive di Risonzo e per fare la sanità trasportaliera. Si tratta semplicemente di uno strumento eccezionale perché ha personalità giuridica autonoma, ma non dipende né dal comune di Gorizia, né da quello di Nova Gorizia, né dal comune di St. Peter. Prende i soldi dall'Europa. Si tratta che le tre comunità siano in grado di prevedere quello che sia la reale necessità di queste tre comunità. Molto bene. Cricitele, era lei che voleva parlare del commercio? Sì. Veloce. Noi abbiamo un progetto sul commercio che è molto semplice, non partendo dalla scoperta dell'acqua calda, e cioè ristrutturare il mercato. Il mercato di Gorizia è pregevole, è una struttura bellissima, ma poi se andiamo in giro per tutta l'Europa troviamo mercati a Budapest, a Barcellona, a Lisbona, che sono riutilizzati, rifioriscono, si vendono i prodotti locali, ma anche si somministra il fast food, lo street food più esattamente, su cui noi ormai a Gorizia siamo abbastanza esperti, tutto sommato. Ho capito. Bertin, una proposta, non un'analisi, non una considerazione. Nel mondo del lavoro, del welfare, insomma. No, 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 non ricominciamo. Lavoro. Lavoro. Intanto, se si viene incontro a chi perde lavoro, in particolar modo ai quarantenni e cinquantenni, si potrebbe far sì che queste esternalizzazioni, appaltare in modo sbordato i servizi di pulizia delle strade, ad esempio, no, di asporto dei rifiuti, queste isole ecologiche, ecco, sia da dare, insomma, sotto forma di lavori socialmente utili ai nostri goriziani, non deve essere dato a queste associazioni, queste che operano sul territorio, tipo la Caritas, che si preoccupa magari di dare, chissà, anche a gente che viene da fuori, no, perché mi risulta che sono diversi anche, gente dell'est europeo, diamo prima di tutto ai goriziani, no, insomma, io credo che sia una minima parte, non è giusto. Un cotto, un cotto, indipendentemente da quel che ha detto Bertini. No, infatti, non perdonate, che non perdono. Non l'avevo capito. Alla qua il mosto, si partì in paga i savon, no, si disse. Parlare inglese è importante. Parlavo in friulano adesso. No, secondo me... Un passaggio sui giovani, se possibile. Infatti volevo dire questo, che al di là di tutto quello che hanno detto gli altri, insomma, potrei dire la mia opinione, ma insomma, non è così rilevante in questo caso. Io penso che, guardando il futuro, non possiamo fare niente altro che cercare di creare quella mentalità, appunto, imprenditoriale, come di cui parlava anche Federico, insomma, sostenendola fortemente e facendo in modo che non soltanto però i 18 anni, i 20 anni, ma anche, insomma, fino a 35 anni, insomma, sostenere l'imprenditoria giovanile, perché così forse fra dieci anni Gorizia sarà diversa, come? Con risorse, ma soprattutto, ripeto, con la mentalità di una città capace di accogliere l'innovazione. No, solo Ziberna, poi, l'altro giro vi recupero. Quando parlavo dei 35 anni, indicavo io, non per prendere la parola, perché so che avevo iniziato io sul lavoro e che penso non mi toccava un secondo turno, o sì, perché se è un secondo turno, volentieri, lo spendo in un... La generosità che la distingue è notoria. Pubblicità? 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 Pubblicità?